Abbiamo parlato di PNRR, mettere a terra sembra facile, però in realtà ci sono delle difficoltà. Voi siete al fianco delle pubbliche amministrazioni proprio tutti i giorni per cercare di lavorare su questi progetti. Che difficoltà incontrate e quali sono le cose che servirebbero? Persone e competenze. Il problema è che noi abbiamo una pubblica amministrazione che, come, perdoni la metafora, un po' sottopeso, e deve fare uno sforzo aggiuntivo per svogere i compiti ordinari, quindi la ragione per cui esiste la pubblica amministrazione, che sono i servizi a tutti i cittadini, tutti i giorni, e in più quello che ci chiede l'Europa nel poter erogare questi fondi del PNRR. Quasi tutte le pubbliche amministrazioni sono in una situazione di organico deficitario, quindi hanno bisogno di assumere nuove persone, e queste nuove persone dovrebbero avere delle competenze che sono quelle taratte sul mondo di domani, e non su quello che siamo abituati a considerare anche solo con memoria. Faccio un esempio banale. Se le parlo di un vigile urbano, mi immagino un signore che sta in mezzo ad un incrocio con una paletta a gestire il traffico. Questa è la mia idea, che ho già qualche anno, ma se vado a vedere che cosa succederà nel futuro, invece dovrebbe essere un signore che magari, o una signore che magari sa gestire dei droni che controllano il traffico con un sistema di intelligenza artificiale che ottimizza, ad esempio, l'apertura o meno temporizzata dei semafori. Come arriviamo da quello che sta con la paletta a quello con i droni? Come si fa questo passaggio? Dobbiamo cominciare ad assumerne, perché in questo momento non ne abbiamo abbastanza. Tenga conto che l'Italia sta cominciando a sperimentare quello che è stato definito dai tecnici come l'inverno demografico. I baby boomers, quindi gente che è nata negli anni 60, i nati nel 60 erano quasi un milione. I nati nel 90, che sono quelli che in teoria dovrebbero sostituire i nati del 60, perché vanno in pensione, invece i trentenni sono quelli che entrano nel ciclo professionale vero e proprio, sono 550 mila. I nati del 2020, quindi quelli che andranno a sostituire i nati del 90, sono 400 mila. Noi abbiamo una struttura demografica molto sbilanciata da questo punto di vista e quindi banalmente abbiamo meno giovani candidabili per sostituire le persone che in questo momento lavorano nella pubblica amministrazione ed escono. E poi c'è un tema di competenze, quindi se prima bastava trovarmi un... insomma, doveva sapere un po' di diritto, doveva sapere un po' di materie, ma poi il resto si faceva sul campo, come formazione. Oggi c'è un tema di competenze specialistiche, dove non solo devo già cercare dei profili un attimo più specializzati. Ad esempio, in questo momento c'è la corsa ai laureati. Rispetto al passato, il numero di bandi, il numero di fame, se vogliamo, di laureati sta crescendo, sta crescendo anche in modo molto importante. E poi c'è un tema di aggiornamento continuo. Io non posso oggi prevedere quelle che saranno i bisogni in termini di competenza tra 10 o 20 anni. Posso immaginarli, ma non sono sicuro che saranno esattamente quelli. e quindi bisogna mettere in piedi un meccanismo di formazione continua che è quello dove le aziende private in gran parte stanno già sperimentando e la pubblica amministrazione deve cominciare ad abituarsi all'idea di mettere in piedi. Con l'ultimo attacco hacker si è visto anche in modo abbastanza chiaro che siamo indietro sia nel pubblico che nel privato da un punto di vista di digitalizzazione. Come possiamo fare a recuperare questo gap che in questo momento è fondamentale? Noi non ci siamo ancora resi conto di quanto la nostra società sia fragile da questo punto di vista. Siamo talmente abituati ad avere disponibilità di dati, informazioni in tempo reale a costi risibili che è quasi una meraviglia che non ci siano più la possibilità di accedere ai database e così via. È un bene molto prezioso, va difeso. Noi ad esempio stiamo lavorando come Formez con l'Agenzia per la Cyber Security perché hanno bisogno di persone, hanno bisogno di tecnici che facciano questa prima linea di difesa alla protezione dei nostri dati. Ecco, quindi anche su questo bisogna lavorare molto per rendere il Paese più competitivo, anche in questo senso.